Questo maledetto capitato è... Il campo con le ossa rotte, invece noi abbiamo voglia di uscire sani, fare una grande partita, sapendo che sarà difficilissima perché sapete meglio di me quelle che sono le qualità degli avversari, quello che è la marcia degli avversari in questo campionato, però credo che abbiamo le qualità per poter fare qualcosa di diverso da quello che abbiamo fatto fino ad oggi fuori casa e abbiamo tanta voglia di volerci riuscire. Siamo appaiati in classifica, quindi i punti che sono stati fatti sono gli stessi dell'ambito delle squadre, loro hanno perso sicuramente meno di noi, a dimostrazione di un equilibrio e una continuità migliore della nostra e che noi vogliamo provare a trovare perché, come ho detto più di una volta, siamo estremamente convinti che sono le qualità per poter fare un percorso di un certo tipo. Non ci siamo ancora riusciti, proveremo a farlo da questa gara sapendo le insidie che avrà, però ripeto, siamo consapevoli del fatto che dobbiamo fare una grandissima prestazione per uscire dal campo con un risultato importante e questa è già un'ottima base. Parlo tanto di continuità di rendimento e la continuità di rendimento ovviamente non si ha se una squadra aspetta che gli avversari facciano per poi reagire. La bravura nostra deve essere quella di riuscire ad agire invece che reagire. Ci stiamo lavorando tanto, abbiamo diversi giocatori di grande qualità. Sappiamo che una dote dei giocatori di grande qualità non è sicuramente la continuità, però vogliamo partire da loro perché i giocatori di grande qualità nella nostra squadra devono essere bravi a essere determinati dal primo minuto e non avere la voglia di reagire dopo che gli avversari ci hanno fatto male o siamo in svantaggio perché, gli ho detto anche in settimana, delle volte ci si riesce, altre volte è complicato ogni volta prendere uno schiaffo per poi ridarne perché se troviamo davanti chi lo schiaffo lo dà tanto forte rischia di intontirci come è capitato già in qualche situazione. Quando riusciamo a fare dei risultati positivi cerco di mettere sempre tanta tanta pressione sui ragazzi perché per me è importante avere la serenità del risultato positivo ma è fondamentale avere il timore del risultato negativo quindi per potersi esprimere ovviamente la forza di una squadra viene determinata anche da queste qualità dal sapere essere brava, sapersi godere le vittorie, sapendo che la partita che verrà deve essere affrontata come è stata affrontata la partita prima di una vittoria quindi non deve cambiare il nostro modo di essere il risultato precedente ma il nostro modo di essere deve essere determinato, cattivo e voglioso di conquistare sempre qualcosa in più se vogliamo diventare qualcosa di meglio. Fuori casa dobbiamo essere consapevoli del fatto che gli avversari sono in grado di fare qualcosa in più, gli avversari hanno dalla loro parte un pubblico che li sostiene in questo caso anche molto caloroso e noi dobbiamo essere in grado di saper reggere questo urto perché se lasciamo via libera gli avversari recuperare le partite, tante partite dopo esserci messi in difficoltà da soli sicuramente non è facile, delle volte ci siamo anche riusciti altre volte fino alla fine ci abbiamo provato ma non è quella la cosa che vogliamo, vogliamo determinare la partita da subito che non significa riuscire ad andare in vantaggio per forza ma significa non spianare la strada degli avversari con un atteggiamento non bello come quello che abbiamo avuto nella partita di Brescia. Ho tutti i giocatori a disposizione, sono bravi, credo che partiranno titolari Marrone, Gionberg, Teio, Petriccione, Galano e Improta e poi per gli altri giocatori ho ancora qualche dubbio che scioglierò stasera ma non ci sono... no, Michai giocherà.